Sono stati ascoltati oggi all'emiciclo nella conferenza dei capigruppi i rappresentanti del Comitato Conferra sul raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, su impulso del consigliere regionale del PD Antonio Di Marco. Erano presenti anche alcuni membri di RFI. Dopo la loro partecipazione simbolica al Consiglio regionale della scorsa settimana, oggi le loro istanze sono arrivate sul tavolo della regione in maniera ufficiale. Il nuovo lotto del progetto Pescara-Roma in via di realizzazione è stato intanto presentato sempre la settimana scorsa. In particolare è stato presentato il lavoro per il tratto da Chieti a Manoppello per il lotto 1 e 2 dell'Interporto a Scafa. Il prossimo 2 maggio prossimo si dovrebbe firmare il contratto. Ma il Comitato continua a essere vigile e continua a non digerire il tracciato proposto. Noi chiediamo l'ascolto dei territori e il rispetto dei territori e della dignità dei territori. E soprattutto utilizzare questi fondi affinché siano valorizzati i territori e non distrutti. Ma qui non parliamo di un comune, qui parliamo di tutta una vallata, una val Pescara che abbraccia più comuni. Oggi è Manoppello, Alanno, Scafa, domani sarà San Giovanni di Atino. Quello che noi abbiamo potuto oggi vedere è che siamo usciti fuori da un dibattito pubblico con una soluzione di variante, lo spostamento del tracciato ferroviario fuori dai centri urbani abbracciando appunto lo snodo dell'Interporto Abruzzo che è a Manoppello. Però in realtà si è fatto tutt'altro. Si è approvato e portato avanti, appaltato e assegnato i lavori del progetto originale presentato da RFI Monco delle viabilità alternative a cui non hanno trovato soluzioni e che stiamo ancora aspettando.